Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo. Ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedica e la Santa Vergine che protegga. Carissimi amici e amiche, siamo ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda. E' l'episodio numero 22. Do il benvenuto e bentornato a tutti. Questa sera affrontiamo un capitolo dal titolo Il suo concetto di paganesimo che Gesù corregge. intanto per circostanziarsi la volta scorsa abbiamo affrontato con l'episodio molto significativo di Gesù che viene scacciato dal Tempio e che chiama Giuda a testimoniare del fatto che davanti a lui, davanti a Giuda aveva chiesto al suo tempo l'autorizzazione alle autorità del Tempio di predicare in quel luogo. Comincio subito la lettura di questo nuovo paragrafo. Gesù è nella cucina della casetta dell'Uliveto a cena fra i suoi discepoli. Parlano dei fatti della giornata che però non è quella precedentemente descritta perché sento parlare di altri avvenimenti tra cui la guarigione di un lebroso avvenuta presso i sepolcrii lungo la via di Betfage. «Vi era anche un centurione romano ad osservare» dice Bartolomeo e aggiunge «Mi ha chiesto dall'alto del suo cavallo. L'uomo che tu segui fa spesso simili cose» e alla mia risposta affermativa ha esclamato «Allora è più grande di Esculapio e diventerà ricco più di creso». Ho risposto «Sarà sempre povero secondo il mondo perché non riceve, ma dà e non vuole che anime da portare al Dio vero». Il centurione mi ha guardato stupito e poi ha spronato il cavallo andandose al galoppo. «C'era anche una dama romana nella sua lettica. Non poteva essere che una donna. Aveva le tende calate, ma occhieggiava da esse. Ho visto» dice Tommaso. «Sì, era presso la curva alta della via. Aveva dato ordine di fermarsi quando il lebroso aveva gridato «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Allora aveva una tenda scostata ed io ho visto che ti ha guardato con una lente preziosa e poi ha riso ironica. «Ma quando ha visto che tu col solo comando lo hai guarito, allora mi ha chiamato e mi ha chiesto. Ma è quello che dicono il vero Messia?» Ho risposto di sì e lei mi ha detto «E tu sei con lui?» E poi ha chiesto «È proprio buono?» dice «Come era?» chiedono Pietro e Giuda. «Ma una donna?» risponde Giovanni. «Che scoperta!» ride Pietro. E l'iscariota incalza. «Ma era bella, giovane, ricca?» «Sì, mi pare fosse giovane e anche bella, ma guardavo più verso Gesù che verso lei. Volevo vedere se il maestro si metteva di nuovo per via». «Sciocco!» mormora Fredenti l'iscariota. «Perché?» lo difende Giacomo di Zebedeo. «Mio fratello non era un ganimede in cerca di avventure. Ha risposto per educazione, ma non ha mancato alla sua prima qualità. Quale?» chiede l'iscariota. «Quella di discepolo che ha per suo unico amore il maestro. Giuda chi nel capo stizzito». «E poi non è molto bene farsi vedere e parlare con i romani», dice Filippo. «Già ci accusano di essere cari lei e perciò meno puri dei giudei, e ciò per nascita. Poi ci accusano di sostare sovente a Tiberiade, il luogo di ritrovo dei gentili, dei romani, fenici, siri. E poi, oh, di quante cose ci accusano!» «Sei buono, Filippo, e metti un velo sulla durezza della verità che dici, ma essa è senza il velo questa!» «Di quante cose mi accusano!» dice Gesù, che fino allora, attaciuto, in fondo non hanno del tutto torto. «Troppi contatti con i pagani», dice l'iscariota. «Credi tu pagani solo coloro che non hanno la legge mosaica?» chiede Gesù. «E quali altri allora?» ribatte l'iscariota. «Giuda, puoi giurare sul nostro Dio di non avere paganesimo in cuore? E puoi giurare che non lo abbiano gli israeliti più in vista? Ma, maestro, degli altri non so, ma io di me posso giurare». «Cosa è per te, secondo il tuo pensiero, il paganesimo?» chiede Gesù ancora. «Ma è il seguire una religione non vera? Adorare gli dèi?» ribatte veemente Giuda. «E quali sono?» «Gli dèi di Grecia e Roma, quelli d'Egitto?» «Insomma, gli dèi dai mille nomi e dalle inesistenti persone che, secondo i pagani, impiono i loro olimpi. Ma nessun altro Dio esiste?» chiede sempre Gesù. «Solo questi olimpici?» «E quale altro?» dice Giuda. «Non sono fin troppi?» «Troppi», dice Gesù. «Sì, troppi, ma ve ne sono altri e i loro altari vengono bruciati incensi da ogni uomo, anche dai sacerdoti, scrivi, rabbi, farisei, sadducei, erodiani». Tutte persone di Israele, non è vero? «Non solo, ma ne vengono bruciati anche dai miei discepoli». «Ah no, questo è troppo!» «Questo poi no!» dicono tutti. «No!» e ribatte Gesù. «Amici, chi non ha fra voi un culto o più culti segreti». Uno ha la bellezza e l'eleganza, l'altro l'orgoglio del suo sapere. Un altro incensa la speranza di divenire un grande, umanamente. Un altro ancora adora la femmina. Un altro il denaro. Un altro si prostra davanti al suo sapere. E così via. In verità vi dico, ascoltiamo bene, che non vi è uomo che non sia intinto di idolatria». Come allora sdegnare i pagani? Per sventura, quando pur essendo con il Dio vero, pagani si resta di volontà. «Ma siamo uomini maestro!» esclamano i morti. «È vero! Ma allora abbiate carità per tutti, perché io sono venuto per tutti. E voi non siete da più di me. Ma intanto ci fanno accuse e la tua missione viene inceppata. Andrà avanti lo stesso, dice Gesù». A proposito di donne, forse è meglio che facciamo un pit stop. Perché siamo arrivati a un punto abbastanza importante, molto importante. Il tema dell'idolatria. Esistono tanti dei. Qui Gesù non fa altro che evidenziarne alcuni. sulla base di un concetto molto importante. Questo l'ho detto in tante circostanze, credo anche commentando proprio i dieci comandamenti a proposito del primo comandamento. «Non avrei altro Dio al di fuori di me». Perché in realtà gli atei non esistono. La Bibbia non dice che l'ateo dice che Dio non esiste. Quello non è un ateo. Quello che dice che non esiste un Dio soprannaturale. Quello è uno stupido. Lo stolto dice Dio non esiste, non l'ateo. Ma lo stolto non è un'ateo. È talmente cretino da dire che non esiste Dio quando questa è un'affermazione che ripugna qualunque cervello, non dico mortamente funzionante, ma impregnato di un minimo di buonsenso. perché noi non abbiamo esperienza di nessuna cosa, come dire, strutturalmente organizzata e funzionante, che non abbia un'intelligenza che l'ha predisposta. O no? Perfino questi orri di occhiali, come dire, per vedere da vicino che adesso abbiamo anche quest'altro problema, non è che si sono fatti da soli questi qui. Insomma, non mi sembra che sono quelli che si comprano in farmacia da 3-4 euro, insomma, quindi non è che siano questa cosa. Ma non si sono fatti da soli questi qui. Nemmeno si è fatta da solo la plastica di cui sono fatti, o la forma delle... cioè, la cosa più cretina. e, anche se uno non deve andare a cercare l'universo, no? Basta che prende qualche piccola informazione. Una terra che viaggia, l'ho detto tantissime volte, a 108.000 km orari, se la sapevate, no? l'aereo va a 1.000 km all'ora quando siamo su in quota. È tanto, eh? Ma la terra va a 108.000 km all'ora intorno al Sole. Chiaro? Poi va al doppio della velocità dell'aereo, girando su se stessa, quindi per farsi il giretto con cui ogni giorno si alternano la luce e le tenebre. Quindi abbiamo a 1.800 per 108.000. Tra l'altro nessuno se ne accorge, no? Quindi quando qualche cretinetti dice, ah, Dio non esiste perché io non l'ho mai visto, dico, sì. Rispondetegli, fatemi sta cortesia. Ti sei mai accorto che ti piacciono le macchine che corrono? Le macchine sportive, rampasi, eh? Canto poco ore una macchina? Poi una a 300 all'ora, 350. Adesso non lo so, le Formula 1, non so più. Quanto sono arrivate? Cosa può che siano? Quella la confritte a 108.000 km di orari? Dovrebbe essersi venuta la vertigine, no? Per chi ce la sta, tutti coi capelli dritti, che stiamo andando troppo forte. Ma nessuno se ne accorge. Tanto è vero che per millenni hanno pensato che la Terra fosse ferma e che girasse il Sole. Vedete quanto le apparenze ingannano, no? Ma adesso tutte queste informazioni, no, noi ce le abbiamo. Sappiamo anche che se queste velocità fossero differenti, su YouTube è pieno di questa roba, quindi non c'è bisogno adesso. Vado a vedere che succede se la velocità della Terra fosse diversa da quella che è stata fissata che sia per farsi il suo giretto. Vado a vedere che succede. Ci manca talmente poco che per fare il suo giretto intorno al Sole, sapete quando ci mette a fare il giretto intorno al Sole, no? Beggio, per tutti lo sappiamo. Ci mette 365 giorni, 6 ore, in 21 minuti, non mi ricordo quanti secondi. Perché c'è un'orbita, non è che fa fare un giro a casaccio. Un'orbita tenuta dentro quest'orbita, evidentemente da forze di natura fisica, che però sfruttano anche la velocità. Vado a vedere se poco poco, anziché metterci questo tempo, ci mettesse un pochino di più. Addio a tutti quanti, abbiamo finito tutti quanti i problemi della vita nostra, perché la Terra c'è dall'orbita, dopodiché tempo 4 secondi, sappiamo tutti perare, è finita la giostra. Quindi questo secondo questi intelligentoni è un caso. Guardate, eh. Quindi l'Ateo non esiste. È uno che ha messo al posto di Dio qualcun altro. Ora, i vagani grossolani, come tutti gli esseri umani intelligenti, attenzione, avevano capito che ci doveva essere un qualche, una qualche divinità, un qualcuno. Poverini, stanto nelle tenebre dell'errore, se ne erano fabbricati, un olipo, proiettando, su quelli sì, le loro peraltro non troppo nobili passioni, sulla pluriformità degli dei, quindi quegli dei erano falsi. Però anche lì c'era un elemento positivo, cioè che pure la testa di un pagano capiva che una divinità o più divinità, qualcuno di più grande di noi ci deve per forza essere a governare il mondo. Ma il paganesimo fondamentalmente, dice Gesù che cosa è? È credere che siano dei e quindi prestargli il culto di adorazione. Sono morti i martiri per questo motivo, perché i martiri li portavano davanti alle statuette di Giove, col bracere dell'incenso davanti. Si bruci l'incenso? No. Aiuto a mazzo. Perché bruciare l'incenso è un segno di riconoscimento della divinità, no? Oh, ma qui ci sono sacerdoti, scribi, rabbi, farisei, sabbucei, e non ci sono solo i soldi, perché il titolo dei soldi ci arriviamo più o meno tutti quanti, e l'ordine delle donne pure, no? La femmina. Ci sono quelli un pochino più... La bellezza e l'eleganza. E' un idolo? Certo che può diventarlo, se assume una importanza di una proporzione esorbitante, esagerata, no? L'orgoglio del suo sapere. Quanti si pavoneggiano? Che cosa vuoi sapere? cioè... La superbia e l'orgoglio motivati dal sapere. E' un'altra di quelle idiozie che non finiscono mai, specialmente di questi tempi. Io mi sento un idiota tantissime volte, perché ho un pezzettino, diciamo così, di bagaglio culturale molto limitato su delle materie ben specifiche. Noi di alcune cose non c'è proprio l'informazione, non ce l'ho. Io mi sembro un bambino, sento parlare della gente che sa certe cose, io ho le reminiscenze di infarinatura scolastica e mi sento un ignorante, come sono su certe materie. O no. Quindi questo vuol dire che per quanto tu ne possa sapere, in confronto allo scibile umano, ma ci vuole la scienza è fusa per capirlo. Sai nulla, sai, sai quattro cose, sai. Quindi è inutile che ti pavoneggi. Umilmente, se si tratta di cose che devi mettere a disposizione per il lavoro, per l'arte o per la professione che hai, metti a disposizione degli altri con molto umiltà. È finito il discorso, è finito. Sa fare che te la dire e ti pensi di essere chissà che cosa. Una grandissima cretinata, no? Un'altra incenza della speranza di un divenire grande umanamente. Ma quanta gente passa la vita a fare il portaborse, reale o non reale? Questi portaborse sono soltanto detti politici, c'è anche chi si avvicina al potente, anche chi si avvicina, lo sapete, può succedere pure i predi, può succedere pure i vescovi, che c'hai, che ti gironzole al torno sperando di, ebbe ma io sono amico del pre, io sono il collaboratore, io sono la persona influente, io sono amico del vescovo. C'è gente che ci gampa con questa roba qui. Ci gampa. Ne fa la ragione della sua vita. Ecco che cos'è un idolo. L'idolo non è uno che scherza. Cioè una cosa diventa un idolo, e noi dobbiamo dobbiamo farci l'esame di coscienza. Quando quella diventa, capite, il focus, il punto di riferimento principale. O quella cosa che se me la tocchi, io divento una belba. Eh, se in verità vi dico, questa è la grossa Gesù, non vi è uomo che non sia intinto di orate via. Quindi anche me, per favore, e anche te. Facciamo una bella mappatura, visto dal dermatologo si fa la mappatura dei dei nei, no? Ecco, facciamo una mappatura degli idoli attuali. Che ce li abbiamo? Purtroppo. Gesù dice siamo uomini. Certo che lo so che siete uomini. Però allora state tranquilli. Perché sta dicendo ma il comune è mezzo caudio. Quindi non ti sentire meglio di nessuno, perché non lo sei, non lo siamo. Siamo tutti in cammino. Siamo tutti sulla stessa barca. Siamo tutti in crisi di debolezze, di miserie. o no? E quindi, come allora sdegnare i pagani per sventura? Scusate, un povero romano come quello che parlava prima, che se pensava, dice questo, diventerà più grande di Esculapio e più ricco di Creso. Ma quello è il suo mondo. Non ce l'avete mai pensato? Ma quello che colpa c'ha che è nato da due genitori pagani? E tu che merito c'hai che sei nato in Italia nel ventesimo secolo o nel ventunesimo, se sei più giovane, dove ancora c'è rimasto qualcosa del cristianesimo, quindi almeno t'hanno battezzato per trovare la comunione alla cresima. Che merito c'hai? Che traesce del tuo duro che nasce? E' un paolo disgraziato che è nato in Cina adesso? Ci stanno ancora i marasmi o in Corea del Nord o fino a qualche tempo fa a Cuba? Che c'è di differente tra me? Quello è un paolo disgraziato. Quello quindi ci sono i pagani per sventura e ci sono i pagani che pur essendo col Dio vero restano tali di volontà, perché noi gli idoli dobbiamo sparecchiarli. Gli idoli si devono mandare in frantumi, come facevamo se col vitello d'oro. Se viene una bella mazza, parapan, pompone, sfrascia, se fra cassa e dopo di che gli faccio pure trangugiare i resti agli israeliti. L'avete fatto? Ora ve lo magnate dopo che l'ho distrutto. Ve l'ha fatto magnare eh? Sta scritto nel libro dell'Eso, ma mica no. Quindi prendiamo atto di questo. Giura, figurate, posso giurare, ma quello tra donne, tra soldi, tutti e tre ce l'avete. I tre principali sono le tre S, no? Roba vecchia questa, sono anni che si predica, non la dico soltanto io, no? Sesso, soldi e successo. O le tre P, se preferite, piacere, possedere e potere, la stessa cosa. Giuda ce l'aveva tutti, che sono le equivalenti di superbe avarizia e lussure, che sono i tre vizi capitali. La superbe è chi vuole essere qualcuno, l'avarizia è chi vuole i sordi e lussure è chi vuole i piaceri veneri. Punto. O no. Poi sono pure questi altri minori dove dobbiamo stare attenti, quindi come considera un po' troppo, cioè ha tante cose, ha tante finezze che deve moderare un po'. Va bene, riprendo, però questo capite, questo è per un poro prete parroco, questo è un assist per le proprie considerazioni pastoral-catechetiche che evidentemente non può essere lasciato. Andiamo avanti, rimettiamo questi orridi a proposito di incenzi alla bellezza e all'eleganza, questo proprio te la fanno passare. Comunque, almeno leggiamo senza troppi intoppi, si spera. A proposito di donne, dice Pietro, che forse perché è seduto presso Gesù, è talmente insollucchero che è buono buono. È un poco di giorni, e anzi da quando è parlato a Betania la prima volta, dopo il ritorno in Giudea, che una donna tutta velata ci segue sempre. Non so come faccia a sapere le nostre intenzioni. So che o in fondo alle ultime file di popolo che ascolta se tu parli, o dietro al popolo che ti segue se cammini, o anche dietro a noi se andiamo ad annunciarti per le campagne, c'è quasi sempre. A Betania la prima volta mi ha sussurrato dietro al velo, quell'uomo che dici parlerà è proprio Gesù di Nazareth? Le ho risposto di sì, e la sera era dietro il tronco di un albero ad udirti. Poi l'avevo persa di vista. Oggi le ho chiesto, hai bisogno di lui? No, moro qui a Gerusalemme, l'ho già vista due o tre volte. Oggi le ho chiesto, hai bisogno di lui? Sei malata? O erobolo? Ha risposto sempre di no col capo, perché non parla mai con nessuno. A me ha detto un giorno, dove abita Gesù? E le ho detto, al Giazzemani, dice Giovanni, è bravo stolto, non dovevi, dovevi dirle, scopriti, fatti conoscere e te lo dirò, dice l'Iscariota, iracondo. Ma quando mai chiediamo queste cose? Escrivamo a Giovanni, semplice e innocente. Gli altri si vedono, questa statuta verata, o è una spia o è una lebrosa. Non deve seguirci a sapere, se è spia è per fare del male. Forse è pagata dal Sinedrio per questo. Ah, usa questi sistemi il Sinedrio? Chiede Pietro. Ne sei sicuro? Sicurissimo. Sono storico del Tempio e so. Ah, bella roba! A questa si adatta come un cappuccio, la ragione detta dal maestro poco fa, commenta Pietro. Quale ragione? Giuda c'entra. È già dentro, anzi, perché pagano per abbattere il Messia e triunfare loro, dunque si mettono sull'altare loro con le loro sudici e anime sotto le vesti mondi, risponde con il suo buon giudizio popolano. Bene, insomma, a breve a Pietro, quella donna è un pericolo, per noi o per la folla. Per la folla celebrosa per noi si spia. Cioè, per lui, semmai, ribatte Pietro. Ma cadendo lui si cade anche noi. Ha, 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 ride Pietro e termina. E se si cade, l'idolo va in pezzi e ci si rimette tempo, stima e forse la pelle, e allora è meglio cercare che non cada o scansarsi in tempo, vero? Io invece, guarda, lo abbraccio più stretto. Se cade abbattuto dai traditori di Dio, io voglio cadere con lui. E Pietro abbraccia stretto con le sue corte braccia Gesù. Non credevo di aver fatto tanto male, maestro. Dice tutto triste Giovanni che è di fronte a Gesù. Picchiami, maltrattami, ma salvami, ma salvati. Guai se fossi io la causa del tuo morire. Oh, non me ne darei pace. Sento che il volto mi si scaverebbe per il continuo pianto e se ne brucierebbe la vista. Che ho fatto mai? Ha ragione Giuda, sono uno stolto. vedete? No Giovanni, non lo sei e hai fatto bene. Lasciatela venire sempre e rispettate il suo velo. Può essere messo a difesa di una lotta tra il peccato e la sede di redimersi. Sapete voi che ferite si incidono su un essere quando questa lotta avviene? Sapete che pianto e che rossore? Tu hai detto a Giovanni, caro figlio e dal cuore di fanciullo buono, che il tuo volto si scaverebbe per il continuo pianto se mi fossi causa di male. Ma sappi che quando una coscienza ridestata incomincia a rodere una carne che fu peccato, per distruggerla e trionfare con lo spirito, essa deve per forza consumare tutto quanto fu attrazione della carne. E la creatura invecchia, appassisce sotto la vampa di questo fuoco trivellatore. Solo dopo, a redenzione completa, si ricompone una seconda, santa e più perfetta bellezza. Perché il bello dell'anima che affiora dallo sguardo, dal sorriso, dalla voce, dall'onestà, no, dall'onesta alterezza della fronte sulla quale è sceso e splende come diadema il perdono di Dio. Allora non ho fatto male? C'è Giovanni tutto vincolato, contento. No, e male non ha fatto Pietro. Lasciatela fare. E ora ognuno vada al suo riposo, io resto con Giovanni e Simone ai quali devo parlare. Andate. I discepoli si ritirano, forse d'armono nel frantoio, non so. Vanno via e certo non rientrano in Gerusalemme perché le porte sono chiuse da ora. Allora amici, qui, anche su questa seconda parte, ci sono tante, tante cose da dire. Una è importantissima. Il rispetto e la riservatezza che si deve avere nei confronti delle anime. Una cosa ovvia, una cosa evidentemente contraddetta e anche constizza da Giuda. Ma Gesù non vuole assolutamente robe di questo genere. E Giovanni, vedete, persone pure, dice ma quando mai chiediamo queste cose? Non ti passa neanche per l'anticamera del cervello di andare a fare una domanda indiscreta. Togliti il velo e poi te lo dico, ma stiamo scherzando, stiamo. Sapete che il nostro mondo fa della riservatezza un po' un nuovo idolo, forse Gesù ci avrebbe messo pure questo, insomma, no? Perché la mia buona mamma diceva che il troppo stroppia in tutte le cose. La virtù è sempre il giusto mezzo tra il troppo e il troppo poco. Però la riservatezza è una cosa sacrosanta di per sé. Adesso non voglio rimettermi a fare le catechesi su chi sono io per poter amare o sul danno al senso alla vita di cielo, ma il nostro io quadripartito ha una sfera che si chiama l'io segreto, che sono i sacrosanti affari propri. L'io segreto non può essere oggetto di aggressione, di entrate in teichel per ragioni di curiosità o, peggio ancora, di andare a indagare sulla vita del prossimo. Dio segreto io e te lo comunichiamo se vogliamo, a chi vogliamo, quanto vogliamo, quando vogliamo, eccetera. non si deve mai fare una cosa del genere, è peccato, non è semplicemente il garante della privacy, non si deve fare. Guardate che questo è un vezzo molto molto diffuso. San Bernardo diceva che la curiosità è uno dei 12 gradi dell'orgoglio, bellissimo libro, un calpe, proprio un bestseller della spiritualità, è 12 gradi dell'orgoglio e dell'umiltà. Praticamente lui ha fatto una scaletta dove c'è al dodicesimo grado dell'orgoglio corrisponde il primo dell'umiltà e viceversa. Bellissimo. È un calpe. Peraltro ci ho scritto qualcosa nel mio libretto, adesso voglio fare il consiglio degli acquisti, i 7 vizi capitali. Quando parlavo della superbia ho scritto anche i 12 gradi, ho enumerato quella roba di San Bernardo, i 12 gradi dell'orgoglio. Quali sono? perché è un cammino. La curiosità sta tra i gradi dell'orgoglio, della superbia. Perché tu ti prendi, tu ti arroghi un potere sul prossimo che tu non ce l'hai. Come ti permetti di fare una cosa del genere? Ma chi ti conosce? Che vuoi? E guardate che quando qualcuno ci fa qualche incursione, possibilmente senza mancare alla carità, però insomma un altro là bisogna darlo eh. Chi può? Perché fai questa domanda? Abbiamo avuto questa grandissima confidenza? C'è uno stile, guardate che sono anche certe amicizie, specialmente tra, spesso eh, perché mi sembra che tra le signorine questo sia un pochino più frequente, che non sono amicizie, sono rapporti malati, sono rapporti morbosi. Non c'è niente di spirituale lì eh. Le amicizie sante non sono così eh. Nelle amicizie sante, e se posso permettere nemmeno le amicizie sane, senza la T, perché posso anche essere su un'amicizia sana senza che sia santa. Non ci si struttura in questo modo. Cioè quelli che stanno tutto il giorno che vivono in simbiosi, no? Tutto appiccicato, trecento telefonate, trecento messaggi che si raccontano, si spaziano degli affari, tutto, tutto. Questa non è mica un'amicizia secondo Dio questa qui. L'amicizia è un'altra cosa. C'è delle bellissime amicizie, io per grazie di Dio qualcuna ce no così, tu non senti l'amico, forse sarà una cosa maschile questa qui, per anni, ma c'è un problema, c'è una difficoltà, si corre seduta stante e quello lo sa e io lo so che è così. Io lo so che se dovessi stare nel bisogno e chiamo una di queste persone mi aiuterà, ne sono sicuro, perché è già successo. adesso è tutto l'altro bronfio, io conosco il Tempio a destra e a sinistra, non capisce che pagare una spia è una cosa gravissima agli occhi del Signore. Odiosa operazione sia chiederla sia anche accettarla e farla, no? Una cosa del genere. I delatori sono una categoria di persone assolutamente, proprio quanto mi riguarda, più che spreggevole. E poi è molto interessantissimo notare anche l'umiltà di Giovanni, no? Le persone che sono così. di quello che era in tezzacca in asporto e lui dice ma avrò sbagliato io, sono stato un peccatore, è quello che dice però. Picchia, mi maltrattami, ma salva di guai se fossi io la causa del tuo morire. Guai se io dovessi essere in qualche modo causa di un male per temi si scaverebbe il volto per il continuo pianto e ne brucierebbe la vista. Potremmo dire anche noi così? Questo è interessante confrontarsi con questo angioletto. Se tu sapessi aver fatto una cosa che dispiace Gesù e che discredita in qualche modo lui o che ne so la chiesa, sua sposa, ti basterebbero le lacrime per piangerci sopra? Quanto ti dispiacerebbe? Quanto mi dispiacerebbe, no? Poi è bellissimo qui Gesù, concludiamo queste considerazioni, lo scavo psicologico che fa delle persone, questa era la famosa verata dell'acqua speciosa che poi si capirà di essere l'agla e no, la mimma e veramente ne aveva fatte tutti i colori. E stava cominciando questo suo cammino, no? I primi passi di un cammino. Quando la persona si avvicina e poi sente, ti mando al circo e ti caricherei su Madre di Magdala, perché Madre di Magdala ha avuto un percorso analogo, no? Tutto il travaglio interiore, quando stava impazzendo che sembrava che stesse meglio, dopo un giorno dopo faceva la pazza, tutte queste cose qui, no? Dice Gesù che rispettate il suo velo, non volersi far vedere, per esempio un'altra cosa che oggi pazzie, i confessionali, no? I confessionali con la grata, perché una persona c'è il sacrosanto diritto di potersi confessare nell'anonimato e non farsi vedere. la confessione non è fatta con gli occhi, la confessione è fatta con le orecchie. Si parlano e si dicono i peccati che uno ha fatto, cioè il sacerdote dall'altra parte ha semplicemente un'anima. Punto. E chi sta dall'altra parte semplicemente è un sacerdote. Punto. E se uno si vergogna di dover dire specialmente certi peccati vis-à-vis, ma quello c'ha tutto il diritto di non dirgli a vis-à-vis e di starse tranquilli e anche di non farsi riconoscere. Io raccontavo tante volte, a Borgo San Michele soprattutto che è successo, cioè quando io mettevo in confessionale c'erano persone che, non sono mica deficienti, io capivo che erano persone che conoscevo perché erano persone parrocchiani, ma dentro il confessionale cambiavano completamente atteggiamento. Si capiva che non volevano essere trattate da me in quella sede come le trattate. E io, per carità, ci stavo perfettamente. Addirittura non vorrei di una stupidaggine a dare del lei a persone a cui fuori del contesto davo di tu. Perché è sacrosanta questa cosa qui. Ci sono delle cose che esigono riservatezza a somma e delle cose di confessione non si parla mai. Il tasso di attenzione deve essere per un prete elevato. Meglio che fa lo scrupoloso di questa cosa qui. Meglio che dice una cosa in meno, che potrebbe dire, piuttosto che vada a rischiare qualunque cosa. Il velo. C'è una lotta tra il peccato e la sete di redimersi. Per esempio, una cosa importantissima, sapete qual è la prima cosa che si dice a un ragazzino o una ragazzina che viene a dirti che forse c'è la vocazione? Qual è la prima cosa che si dice? punto primo, finalmente si dà una calma. Pregaci su, stai tranquillo, stai tranquilla, adesso poi si vedrà nel tempo. Può darsi che questa sia un'infatuzione momentanea. Se la cosa viene da Dio, lui te la confermerà. Ma quella è la prima cosa, non farne parola con nessuno. Ne hai parlato con me, ho fatto bene. Ma non dire niente a nessuno. Perché? Perché se uno dice qualcosa a qualcuno, dopodiché è la fine. Perché si è già esposto. Già ti vedono mezzo prete, già ti vedono mezza suora, quindi tu non sei più sereno, libero per poter fare una scelta tua. Perché già c'è quello che si aspetta che tu vedi il seminario, e dopo ti cominciai. Perché non si è entrato? Perché non ha fatto questo? Non è possibile dire una cosa di questo genere. Cioè, le grandi scelte dell'anima davanti a Dio, che è per esempio una conversione o una scelta radicale per lui, hanno dei tempi e delle necessità di riservatezza, somme, che vanno rispettate. Gesù dice, sapete voi che ferite che si incidono su un essere quando questa lotta avviene? Che pianto e che rossone. a Giovanni che dice, tu hai detto che si scaverebbe il volto per il continuo pianto se mi fossi causa di male. Che Dio lo benedica a San Giovanni, tanto lo benedice. Dice, ma quando una tua scienza si rivesta e incomincia a ruotere una carne, quindi sta parlando di certi peccati Gesù, è ovvio, che fu peccato, per distruggere e trionfare con lo spirito, deve per forza consumare tutto quanto fu attrazione della carne. Per un lussurioso liberarsi da questo incubo è una fatica decisifo. Lo può e lo deve fare, ma è, te ci perdi gli anni, te ci perdi. La creatura invecchia, dice Gesù, appassisce sotto la vampa di questo fuoco trivellatore. E quindi già quella c'ha tanto da fa, e c'ha tanto la tribo là. O ci mancano il tanto che chi si va in trufola a farsi affari suoi e a rompergli le scatole, scusatemi il termine un po' feriale. Non è ammissibile una cosa del genere. Va lasciata in pace. Dopo la redenzione compiuta, che culmina in confessionale, dove la riservatezza è estrema, piano piano si ricomporrà una seconda, santa e più perfetta bellezza. Perché la bruttezza viene dal peccato. Perché è il bello dell'anima che affiora dallo sguardo, quante volte ve l'ho detto dal sorriso, dalla voce, dall'onesta alterezza della fronte. Poter camminare a testa alta, perché? Perché non c'hai in autotreno di peccatacci che sai che fai, di cui vergognarti, perché di quelli ci si deve soltanto che vergognare. L'occhio di un peccatore non è limpido, non è bello. Il sorriso, manco, non è bello. La voce non è bella. State attenti a questi particolari, quando volete fare un po' un... non dico un photo finish, ma un mugshot è abbastanza erosimile, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore, la lucena dello sguardo e l'occhio, tutte quante cose che ha detto Gesù nel Vangelo, eh? Tutte cose che ha detto Gesù nel Vangelo. Ecco. Quindi, si lasciano in pace i peccatori. È lontano dalle domande impadenti alla Giuda. Hai visto Giuda, eh? Mi fa questo peccato, segnare. Sommiglia a Giuda. No! Bravo stolto! Non dovevi, dovevi dirle, scopriti! Fatti conoscere e te lo dirò. Pur rigatto. Va bene, penso che possiamo fermarci per oggi, che c'è già abbastanza da riflettere, da militare. Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga.